Quarta giornata di campionato Levis Cup Ingresso in campo delle 500 miles Verso le Bianca Team Riprendiamoli con la telecamera Spider Cam della SK TV Ecco il saluto Delle 500 miles Che salutano le ragazze con la Maia Arancione Della Bianca Team Riprendiamo adesso anche in diretta Il tocco dei due capitani Che decreterà L'assegnazione della palla O del campo Veniamolo Bianca Team Qualcosa da dire ora in diretta Mamma mia che paura Paura tesa Federica Palla per le 500 miles Campo per la Bianca Team Approfittiamo quindi Questo momento Intervistiamo anche La signorina Bianca Bianca Una partita Una partita diciamo Un po' tesa Comunque è una partita fondamentale Avete anche acquisito Un nuovo innesto Cosa prevedi Come andrà questa partita Dobbiamo vincere Ma perché noi siamo forti E' importante essere convinti Bravissima Bravissima Vabbè Vorresti salutare qualcuno Che questo momento ti sta guardando Lo sponsor No per favore Non ti saluta nessuno House Design Il capo Il capo Salutiamo il capo Andiamo a riprendere un po' Anche le ragazze Della 500 miles Federica Abbiamo prima parlato anche Con il capitano Della squadra avversaria Il tuo pronostico Per questa partita Spero e credo Che possiamo vincere Non vediamo l'ora di giocare Siamo carichissime Vabbè Come avete schierato Un po' la formazione Allora Noi non abbiamo il portiere Quindi c'è Roberta C'è la numero 7 In porta Per cominciare Però poi tanto gireremo Vabbè No La nostra punta Che è Il portiero Il portiero E i nostri difensori Principali Che sono Caterina E Nisa Va benissimo Va bene Vuoi salutare qualcuno Approfittare della telecamera Sì Devo salutare assolutamente Mia sorella Che mi segue Dalla Spagna Il nome Martina Martina Salutiamo Martina Dalla Spagna Quindi chiudiamo il collegamento E passiamo la parola Quindi alla regia Per la ripresa Di questo big match Un saluto da Max Che è in stadium Inizio di primo tempo Torneo Ladies Cup Che vede affrontarsi La bianca team Contro le 500 miles Ancora la bianca team In maglia arancione Contro Le 500 In Maglia nera Ora ancora Un contrasto Tra l'estremo difensore E l'attaccante Ragazzi Un passo indietro Per favore Vediamo Sul punto di battuta La numero 10 Il tiro La palla deviata In calcio d'angolo 500 miles In attacco Vediamo adesso Con la numero 3 Contrastata Bianca team Che ora può ripartire Almeno ci prova Ma è ancora La numero 3 Delle 500 Andre Però adesso La partita è un po' Confusa Passaggi Non precisi Le squadre Che si studiano In questo inizio Di primo tempo Palla lunga Adesso Verso il nulla Scivola In fallo laterale Per la bianca team Ricordiamo Il casacca Arancione La palla lunga Intercettata però Dalla numero 3 Corato Tanta imprecisione Tanti passaggi Errati Continuano senza arbitro Il gioco è fermo Sul punto di battuta Ancora Lancio lungo Gioco di corpo Ma la palla Termina sul fondo Per l'estremo difensore Bianca team Palla lunga Ancora Non ci sono Chiare azioni da gol Contrasto qui Palla In fallo laterale Per le 500 miles Ancora Passaggio sbagliato Tanti errori In disimpegno Bianca team Che ora Prova ad affacciarsi Nella Metà campo Avversaria Messa laterale Al centro La palla Attraverso L'area di rigore Nulla di fatto Insultato Fermo Sullo 0 a 0 Rimessa dal fondo Affidata all'estremo difensore Che prova a servire La numero 10 Che controlla Di ginocchio Prova a servire 1-2 Splendido La numero 3 Non riesce ad arrivare Sul pallone Buona l'azione Per le 500 Mai Bianca team In rimessa laterale Passaggio Vicino Proprio compagna Pala lunga Contrastata però Ora la numero 9 Tenta Ma si chiude bene La difesa Bianca team Primo tempo Che fa fatica Ad accendersi A vivacizzarsi Con entrambe le squadre Che sembrano Un po' contratte Rimessa laterale Bianca team Pala lunga Ma si chiude bene La difesa Dele 500 Miles Soltato sempre fermo Sullo 0 a 0 Ora la Bianca team In possesso di palla Ricordiamo la Bianca team In casacca arancione 500 In Maya Blu scuro Pantamoncino bianco Messa battuta La palla Si perde sul fondo Però Primo tempo Primo di emozioni Prova Ora La formazione In Maya blu A Cercare di Rivalcizzare La manovra offensiva Facendo un cambio Ma possiamo chiudere Il collegamento Primo tempo Che finisce Sul risultato Di 0 a 0 Chiudiamo il collegamento Da Inizio di secondo tempo Che vede affrontarsi La Bianca team Contro Le 500 Miles Che stanno in vantaggio Di 4 reti a 0 Totalmente Surclassate La formazione In casacca arancione La Bianca team Ancora La numero 6 Delle 500 Miles Rimessa dal fondo Dell'estremo difensore Della Bianca team Ancora La palla Rimessa laterale Per la Bianca team Ragazzi più dietro per favore Bello Bello Confusione Le giocatrici Della Bianca team Cambio Di rimessa Per la Fede Andre Miles Battuta Il calcio di punizione 1-2 Splendido Ancora La numero 10 Sulla fascia In dribbling Si chiude bene La difesa Ora Della Bianca team Con la numero 6 Adesso Per le 500 Miles Nulla di fatto Nulla di fatto Calcio d'angolo Bianca team Calcio d'angolo battuto Però Può partire in contropiede La formazione Maia blu Chiude bene La difesa Zoppicante Della Bianca team Ancora Il palleggio Splendido La girata Nulla di fatto Libera La difesa Casacca Arancione Ricordiamo Ad arbitrare Questo match L'albitro Sandro Stanziano Con rimessa Battuta Ancora La difesa Che respinge Palla lunga Nel nulla Rimessa dal fondo Per l'estremo difensore Della Bianca team Palla lanciata Altissima Prova a mettere Giù di spalla Ma La palla Finisce Fallo laterale Ancora Il tiro Nella numero 10 Ancora il buono Il tiro Splendida La Pule Si Chiude Respinge bene L'estremo difensore Della Bianca team Ancora Fallo laterale Battuto In modo Errato Cambio di Battuta Fallo laterale Per la Bianca team Palla lunga Ancora Chiude bene la difesa Ancora Però Bianca team Che conquista palla Numero Con la sola In mezzo a due Se ne va Ancora Bianca team Che prova A ridurre lo svantaggio Ma si chiude bene La difesa Della 500 Miles Che ora parte Con la numero 6 Al centro Per la 10 Che liscia Clavorosamente Da sola Da sola Davanti al portiere Doveva solo Metterla dentro Manca la sfera Ricordiamo sempre Il risultato Di 4 a 0 Ancora Bianca team Che prova A ripartire Si chiude bene La difesa 500 miles Ma Chiudiamo il collegamento Con il risultato Di 4 a 0 Per Le 500 miles Ai danni Della Bianca team Un saluto Da Boatene Inizio di secondo tempo Squadre a parti invertite Con I 500 miles Da Sinistra Verso destra E la Bianca team Attenzione però La numero 9 Palla che Travesse sotto l'area Niente di fatto Ora Vediamo la Bianca team Casacca arancione Che invece Gioca da Destra Verso sinistra Della telecamera Ora Ricordiamo il risultato Di 9 a 0 Risultato pesante Per la Per 500 miles Che sta vincendo Di 9 rete a 0 Contro la Bianca team Sultato duro Per la Bianca team Che prova a reagire Nonostante Lo svantaggio Andiamo ora La punizione Per la Bianca team In casacca Arancione Che prova a dare Una scossa A questa partita Prova la punizione in aria La palla però È respinta Può ripartire in contropiede La numero 3 Per la 500 miles Che adesso la pre Per la Numero 6 Sulla fascia Prova il destro Debole Anzi è un passaggio Ma La numero 9 Si fa ipenodizzare Dall'estremo difensore Della Bianca team Controllo un po' Complicato Ora è sola La numero 6 In palleggio Il dribbling La girata col sinistro L'estremo difensore È sicuro E blocca la sfera In due tempi Bianca team Che ora prova a ripartire Però è confusa All'indifesa Prova però adesso Regala palla Al tiro Ancora L'estremo difensore Bianca team Eppa Ragazzi Prendetele per favore Calciata angolo Ragazzi Il tiro fuori Premessa da fondo Per potere Premessa dal fondo Per l'estremo difensore Della Bianca team Che ora serve La propria compagna Prova ad andare in dribbling Contrasto Fallo laterale Ancora Bianca team Che prova con l'orgoglio Palla lunga Ma si chiude In maniera perfetta La difesa Nella 500 miles Ancora Bianca team Prova a rendersi pericolosa Lì davanti La palla al centro Di testa Libera bene La numero 9 Ancora Bianca team Che si chiude Rimessa laterale Per le 500 miles Partita Il primo tempo Totalmente a senso unico Anche nel secondo Incrementano Le reti Ancora però Il fraseggio È la rete Della numero 9 Che festeggia Il decimo gol Quadrata adesso L'autrice Del decimo gol Nuna da fare Per la bianca team Che subisce ancora Gol Che è La partita A senso unico Prova Adesso A ripartire A reagire Numero Al centro Al centro del campo Ma si chiude ancora Molto bene La difesa 500 miles Ricordiamo Il risultato Del primo tempo Sul 10 a 0 Ancora nessun gol Per la bianca team Che ora cercherà Il gol della bandiera Ancora pasticcio Difensivo Però Dornita totale Della difesa Della bianca team In rete Ancora La 500 miles Con la numero 6 Quadrata Undicesimo gol Ma possiamo chiudere Il collegamento Risultato di 11 a 0 Per 500 miles La bianca team È tutto